Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo, come posso dire, per questa sorpresa che ho ricevuto, non mi veniva il termine perché è veramente una cosa importante per me sotto diversi punti di vista, soprattutto quello della crescita del canale e poi di un'amicizia, secondo me, che potrà nascere, visto che poi abbiamo deciso anche di incontrarci. Comunque sto parlando di un mio iscritto Giovanni, quale saluto, ciao Giovanni, che guardando i miei video è rimasto colpito dal modo con cui appunto monto i modelli, mi viene difficile perché io non mi preparo nulla. Se vi ricordate io feci il primo video dove montai la prima uscita, questa, della Audi 4, dove disse appunto ragazzi mi sarebbe veramente piaciuto farlo perché oltre ad avere un'importanza storica proprio nell'ambito del rally, mi sarebbe piaciuto ma non avevo la possibilità economica perché se guardate la mia playlist e ho già diversi modelli in costruzione, insomma, non è che me li dà qualcuno, me li devo comprare giustamente io, quindi ecco il budget era quello e non potevo andare oltre. Invece questo mio iscritto Giovanni mi ha contattato e mi ha commissionato il montaggio di questa Audi 4 e della Lancia Stratos che sapete che io sto già facendo. Quindi sarò ben felice di iniziare questa nuova avventura con questo bellissimo modello che curerò come curo tutti i modelli ma avendo nel cuore, così come anche per Diego che mi ha commissionato la Yamaha YZR M1 di Valentino Rossi, così come anche per Diego avrò nel cuore il pensiero di sapere che sono veramente innamorati di questo modello, del proprio modello e quindi io sono ben felice di dedicarmi con mille attenzioni in più. Quindi grazie, grazie Giovanni, grazie di questa opportunità. Adesso passiamo subito al montaggio del fascicolo numero 2. Io ho già aperto il blister per evitare di fare video molto lunghi, visto che io ho un canale che non si occupa del solo montaggio ma cerca di aiutare le persone che hanno più difficoltà appunto nell'assembrare il modellino per evitare che possano fare danni. E quindi volevo chiedere a tutte le persone non iscritte ringraziandole comunque per le visualizzazioni, così come i miei iscritti carissimi, se potete sempre che ne abbiate il piacere iscrivervi al canale, attivare la campanella così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare anche modelli non soltanto di auto. E in ultimo, ma avete già capito dalla mia introduzione, se ci fosse qualcuno tra di voi interessato a montare qualche modello mi contatti privatamente, grazie. Passiamo subito allora alla fase del primo montaggio. Questo l'abbiamo visto già nell'uscita numero 1 e si ripete la pubblicità dell'abbonamento di tutti quelli che sono i gadget. questa è la copertina posteriore di questa uscita. Ecco, poi dalla terza uscita in poi i fascicoli costeranno 11,99 euro. Questo è costato 5,99 euro. Il primo 1 euro, quindi adesso il prossimo numero si parte con la cifra che durerà fino alla fine di tutta la collezione. Collezione che vi avevo già detto è composta da 110 uscite. Intanto vi do la possibilità, se avete piacere, oltre che di guardare le immagini, di dare lettura all'interno del fascicolo e poi passiamo al montaggio. Questa è la seconda di copertina con i numeri utili e servizi che si ripete ad ogni collezione che deciderete di intraprendere. Ed ecco qui un'altra leggenda dei rally. leggete anche, vi esorto a dare lettura ai testi e non soltanto guardare le immagini perché è importante la storia senza la quale nulla ci sarebbe stato di questo modello. Però non si parla solo di questo modello, si parla di tanti modelli, di tante realtà. Quindi ecco provate a leggere un fascicolo e poi vedrete. Io non parlo perché qui è come essere in biblioteca, silenzio assoluto. Abbiamo quasi finito. Vi dico che già dal primo impatto e da questo secondo numero sono molto colpito dal fatto che hanno riprodotto dei pezzi metallo che in altri modelli sono stati invece fatti in plastica. Come ad esempio la pinza dei freni. Qui è in metallo, in altri modelli questa qua è in plastica. Queste sono le fasi del montaggio e questa è l'ultima, anzi la penultima di questo fascicolo. eccoli. Bene, mettiamo via questo. Se stesse qui non sarebbe male ma oppure che cade. Andiamo a vedere i componenti. Io vi consiglio di usare un lubrificante. Non importa ragazzi quale tipo di lubrificante voi usiate. Quello che conta è che usiate un lubrificante e quello che è ancora più importante è che usiate il lubrificante esclusivamente nelle parti metalliche dove cioè la vite, sto cercando lubrificante, dove la vite va avvitata nel metallo. Un attimo. E come dicono qui. Sono di nuovo qui. Questo è il lubrificante che uso io ma non cercate lo specifico. Come vi ho detto prima, qualsiasi va bene. Allora riceviamo il cerchione completo. La parte esterna, questa, è in metallo. Guardate che bella. Quindi questo è tutto in metallo. Qui la valvola. Vi faccio vedere. che hanno riprodotto anche la zigrinatura, questa qui, del cappuccio della valvola. Guardate. Poi abbiamo la parte invece, questa qua che è in plastica, la parte interna. Prima di montare dovete controllare sempre qual è la parte più bella, quella che è stampata meglio. Perché a volte può capitare che ci sia un difetto. Voi lo mettete all'interno. L'importante è che uno sia perfetto. In questo caso vanno bene tutte e due. Quindi riceviamo questo. Poi il disco del freno. Parliamo del sinistro. le due parti. Freno ventilato. Questi che sono i bulloni. In questo caso ce ne danno cinque esatti. Cinque ce ne vanno. Neanche un in più. Di solito altre aziende te ne danno in più. Qualora magari si dovesse rompere. Poi abbiamo questa. Questo pezzo qua che è il disco del freno. Parte del disco del freno. Che è metallo. Questa. Nella quale vi parlavo prima. Che è la pinza del freno. Eccola qui. Che è di metallo. In altre collezioni è plastica. Qui sicuramente poi ci andrà messo il tubicino dell'olio. Queste tutti i metallo. Eccolo qui. Che è il fusello. Qui poi sarà avvitata la ruota. Qui l'ammortizzatore. Qui la pinza del freno. Poi abbiamo questa. Che è il braccetto inferiore delle sospensioni. Guardate anche la cura sotto. Come è stato riprodotto. Con i finti bulloni. Bello. Abbiamo questa. Che è la rondellina in plastica. Che viene poi messa tra la vite. E il mozzo. Dove andremo ad avvitare la prima ruota sinistra. E poi abbiamo quattro serie di viti. Tutte e quattro vanno avvitate nel metallo. Oltre a essere spiegato nelle istruzioni. Nelle collezioni. Quando vedete l'ultima lettera M vuol dire metallo. Quando vedete la P plastica. Generalmente oltre ad avere la lettera P. La plastica è anche azzurra. Invece queste sono sempre nere. Bene. Adesso vi faccio vedere per velocizzare cosa ho fatto. E' quello che vi consiglio a voi. Prendete il lubrificante. E vi dico cosa ho fatto io. Io ho preso le viti. In questo caso amm. Da non confondere con queste che hanno un am sola. Attenzione. Queste qui. Ho bagnato la prima vite nel lubrificante. E mi sono creato tutti e tre filetti con la stessa vite. Queste sono le tre viti. E quindi queste le possiamo mettere via le prime. Poi sono andato a prendermi questo. Che va montato poi sul disco dei freni. E con la vite UM sempre bagnandola nel lubrificante mi sono creato questi due filetti. Vedete le viti sono già avvitate. Fatelo ragazzi perché è una cosa importante crearsi i filetti. E questo lo abbiamo anche visto. Mettiamo via anche questa vite. Poi sono andato a prendermi il fusello. Eccolo qua. Dove qui che va montata la pinza dei freni sono andato ad avvitarmi due viti AM. Una e due. Sempre con il lubrificante. e infine con un'altra vite ovviamente differente. La DM. Eccola qui. Sono andato a crearmi il filetto sia qui dove poi andrà messa la ruota. E sia qui. Ok? Bene. Adesso possiamo partire. Iniziamo a montare la nostra seconda bella prima uscita. Abbiamo detto che il copertone è bello da tutte le parti. Quindi facciamo così. Mettiamo questo. Rimuoviamo le tre viti. Ve lo ricordo ancora che sono queste. C'è solo una possibilità di poterle inserire correttamente. Quindi non potete sbagliarvi. ecco perché dovete crearvi i filetti. Perché la parte anteriore è metallo. Ma quella dietro in plastica. Fate attenzione a non romperla. Mettiamo la prima vite senza stringerla. Avete visto con che facilità si avvitano una volta che vi siete creati i filetti. poi facciamo questo lavoro qua. Pressiamo un po' e avvitiamo. Non fino in fondo. Un po' alla volta. Dobbiamo far lavorare tutte e tre le parti. ecco qua. Quando è che sarete sicuri che è stato montato correttamente? quando tutta la circonferenza toccherà sul cerchio metallico. Quindi questa parte in plastica non deve lasciare spazi qua in mezzo. Ricordatevi anche quando riceverete la terza uscita di andare a stringervi ancora un po' queste tre viti perché si assestano e vi permetterà di fare ancora un mezzo giro. Bene, una volta fatto questo andiamo a staccarci i cinque bulloncini poi se avete del biadesivo fate così vediamo se ci aiuta oppure no bene l'idea è buona ma se avete qualcosa di più piccolo l'importante che in punta sia piatto è ancora meglio di solito entrano anche abbastanza agevolmente vi devo dire comunque va bene poi le inseriamo meglio vedete già questo particolare a me piace quando si vedono già questi particolari il modello promette davvero bene non spingete giù subito perché rompete il perno ok a questo punto senza fretta non sono molto duri dovete arrivare per forza in battuta del metallo non lasciateli fuori perché sono bruttissimi infatti vedete si vedono sono usciti fuori va bene così vedete ok adesso andiamo vederli ecco abbiamo fatto anche questo a questo punto prendiamo questo pezzo qui andiamo a svitare le due viti che vi ricordo essere queste ok poi prendiamo il disco uniamo così io faccio combaciare le due l ma ho visto che anche mettendo così non cambia nulla non vi preoccupate l'importante che ecco il disco ventilato ecco non sia montato così ma correttamente in questa maniera qui quindi questo lo mettiamo così perfetto questo va messo in in questa maniera scusatemi è riuscito dall'inquadratura ok quello che sentite miagolare è il mio gatto tigrato europeo di nome michelangelo poco più di due anni è il mio amore l'ho lasciato libero un attimo prima e mi ha rotto un pezzo di una porcellana che non è neanche mia però insomma mi ha fatto subito danno insomma non stringete subito fate così centratelo un po ecco vedete guardate che si è centrato bene perché non è che si centra proprio proprio e dovete centrarlo voi altrimenti è storto ok bene controllate ok adesso possiamo stringere vedete così deve essere ok a questo punto prendiamo il fusello andiamo a prendere due viti a m che io avevo già montato prima come vi avevo detto vado a rimuoverle vediamo la pinza la posizioniamo qua sopra e la avvitiamo se avete creato il filetto vi basterà girare col cacciavita l'indietro in senso anti orario quando sentite il clac che ha superato il dentino avvitate ecco qua vedete guardate come scorre il cacciavita è una meraviglia ha un po' di gioco quindi prima di avvitarla guardate lo spazio piccolo che avete qua sotto adesso vediamo se riesco a farlo vedere e vi regolate con quello ecco questa apertura qui vedete la luce qua in mezzo mettete la pari da una parte all'altra e avvitate lì perfetto ok anche questo l'abbiamo fatto infine andiamo a svitare la vite dm sia qua dal fusello dove poi ci va il braccetto inferiore della sospensione e sia qui dove poi andrà messa la ruota con il disco dei freni ecco qua prendiamo questo lo andiamo a mettere semplicemente così voilà e avvitiamo attenzione perché non deve essere rigido questo deve essere e avere la possibilità di muoversi ok quindi va bene così se invece lo volete stringere un po' non stringetelo in maniera eccessiva arrivate in battuta vedete così è duro va bene non serve stringerlo forte lo farete magari poi se vorrete una volta che avete centrato anche gli altri fori sopra sarà tutto più semplice poi montarlo adesso c'è rimasto soltanto da mettere questo il disco del freno così ecco qua qui abbiamo una scanalatura vedete e qui abbiamo uno scasso eccolo qua che ovviamente va all'interno ecco qua vedete nella scanalatura quindi mettiamo il disco qui ok mettiamo questo sopra mettiamo il pollice dietro fissiamo il disco finché non sentiamo che ci gira sopra il dito vuol dire che ha preso la scanalatura facciamo girare questo eccolo qua l'ha presa posso mettere la mia rondella in plastica eccola qui non ha un senso come mettere da una parte o dall'altra non cambia nulla vi consiglio di farla io vi consiglio di farla perché sempre per il suo tuo discorso perché ha una storia nei campionati mondiali di rally controllate soltanto che tutto giri bene e gira bene vedete è perfetta bellissima vedete il disco ovviamente deve girare insieme alla ruota altrimenti non avete preso lo scasso del quale vi parlavo prima ecco qua poi quando andrete a montare il modello voi definitivamente non serve che le ruote le facciate girare datemi retta stringetele forte e fissatele è più stabile il modello e poi non ci dovete giocare poi per carità il modello è vostro e deciderete voi cosa farne ecco qui questo è quello che è stato montato in questo numero abbiamo finito perfetto ecco qua primo e secondo numero grazie ragazzi del vostro tempo grazie di avermi seguito mi auguro che deciderete di iscrivervi decidiate di iscrivervi al canale di seguirmi datemi anche dei consigli se sono costruttivi io accetto qualsiasi cosa che mi aiuti nella crescita c'è sempre da imparare sempre ecco qua numero uno numero due bellissimi ringrazio ancora Giovanni grazie Giovanni vedrai che questo modellino sarà qualcosa di spettacolare è vero che ha un disegno vintage ma ragazzi qua parliamo di anni e anni fa anni 80 tra gli 70 e 80 adesso non sono un grandissimo esperto ma vi dico che questa era una macchina con trazione sulle quattro ruote che era qualcosa di di pauroso tanto che era potente bene che dirvi ancora grazie di cuore grazie che abbiamo superato i 4000 iscritti grazie per le visualizzazioni grazie del vostro tempo un saluto ancora a voi e a tutti i vostri cari più cari e ancora un'altra volta grazie Giovanni della fiducia spero di renderti felice alla fine di questo montaggio che se non è come dico io sai che non lo porto neanche avanti ciao a tutti